Presentazione della storica scuola di pattinaggio Olimpiadi Pattinatori Siracusa. Una giornata che ha anche messo in evidenza gli allievi che si sono contraddistinti nella scorsa stagione. Come ci spiega l'allenatore della società rotellistica Ernesto Maiorca? C'è la presentazione della squadra 2018 dell'Olimpiadi Pattinatori Siracusa, la conquista dell'atleta dell'anno 2017 e la premiazione di tutti i ragazzi che si sono distinti nel corso della stagione 2017. Noi come società siamo la terza a livello italiano, pratichiamo il pattinaggio a rotelle su pista, strada e indoor. Abbiamo un vivaio di 150 atleti e di 30 agonisti che disputano gare a livello nazionale, europeo e mondiale. Un team di tutto rispetto, quello dell'Olimpiadi Pattinatori Siracusa, che vede l'impegno di tutti per portare il vice campione del mondo Vincenzo Maiorca in Argentina per un'altra ardua impresa. È stato un anno fantastico, abbiamo dei risultati ottenuti, sono molto soddisfatto. Ora vediamo in questa presentazione come va per l'attleta dell'anno, speriamo bene. Sto cercando di entrare nella rosa delle Olimpiadi, mi sto preparando appunto per questo grande evento che si terrà in Argentina nel 2018.